Il 3-5-2 di Scienza contro il 4-3-3 di Modica, il settimo miglior attacco del campionato, quello del Monopoli, contro le 38 reti segnate dalla Vibonese, terza nella speciale classifica. Le assenze per squalifica di Bubasi è prezioso da una parte, contro quella di Piccini dall'altra. Monopoli e Calabresi si giocano tre punti importantissimi, con il Gabbiano che da una parte potrebbe dare l'assalto al quarto posto solitario, e Rosso-Blu pronti a giocarsi il decimo posto, perso dopo la sconfitta interna contro la Cavese di domenica scorsa. Capitane Franco è diffidato, ma Scienza non dovrebbe risparmiarlo, seppur in vista dello scontro diretto con la Ternana di domenica prossima. Dall'altra parte Napolitano è in vantaggio sull'ex Berardi per la sostituzione di Bomber Bubas, appiedato dal giudice sportivo. Rebus a centrocampo, Aziosmanovic potrebbe scalare nel ruolo di Mezzala, avendola meglio su tutti i Santi, che non gioca a titolare da quasi quattro mesi. In attacco possibile turnover con Cuppone che dopo il gol siglato a Catanzaro si è candidato a scendere in campo dal primo minuto al posto di Jefferson. L'impiego di un under in mezzo al campo spianerebbe la strada ad una difesa tutta over, con De Franco, Rota e Mercadante. Fischio d'inizio alle ore 18.30, arbitro della gara il signor Monaldi di Macerata, codivato dagli assistenti Cataldo e Ceccon.